Cocco regala la vetta al Torino, 1-0 contro Venezia. Cocco si assicura la leadership in classifica per il Torino contro Venezia. In un avvincente duello di Serie A, il FC Torino ha celebrato sabato scorso una sofferta vittoria per 1-0 contro Venezia. Il gol decisivo è stato segnato dal giocatore Cocco nel primo tempo, portando alla squadra punti importanti nella corsa per la vetta della classifica. Il FC Torino, che prima della partita occupava il secondo posto in classifica, è sceso in campo con un obiettivo chiaro contro il 17 in Liga. Il Venezia aveva avuto difficoltà a ottenere punti in modo costante nelle partite precedenti e si trovava sotto pressione per vincere contro un forte Torino. I tifosi allo stadio Pierluigi Penso hanno assistito a un match intenso e combattuto, che ha richiesto molta energia da entrambe le parti. Già nel primo tempo, la prestazione di Cocco ha catturato l'attenzione. Er wurde immer wieder in den Offensivaktionen gesucht und zeigte eine beeindruckende Spielfreude. Nach einer gelungenen Kombination konnte er schließlich in der 34. Minute den Ball im Netz versenken. Dies brachte Torino in Führung und bescherte den Gästen eine wertvolle Vorentscheidung. Er wurde cercato più volte nelle azioni offensive e ha mostrato una gioia di giocare impressionante. Dopo una kombinazione riuscita, er riuscito finalmente a mettere il pallone in rete al 34. minuto. Questo ha portato il Torino in vantaggio e ha regalato agli ospiti una preziosa decisione anticipata. Secondo quanto riportato, l'allenatore del Torino, Ivan Juric, aveva già sottolineato in precedenza quanto fosse importante sfruttare l'opportunità di raggiungere la vetta della classifica. Cocco ha soddisfatto questa aspettativa con il suo gol decisivo. La difesa del Torino è rimasta stabile per tutto il match. Venezia si è impegnata nel secondo tempo per cercare di pareggiare, ma le linee difensive sono riuscite a fermare in tempo le ondate d'attacco dei padroni di casa. Numerosi tentativi dei veneziani sono finiti o tra le braccia del portiere o sono stati parati dalla difesa del Torino. Anche una serie di calci d'angolo e punizioni non ha portato per Venezia a chiare occasioni da gol, sottolineando così il predomino del Torino. Nach dem Spiel äußerte der Kapitän von Torino, dass die Mannschaft sehr glücklich über diesen Sieg sei. Die Freude über das wichtige Tor von Cocco sei groß und werde das Selbstvertrauen der Spieler weiter stärken. Zudem wies er darauf hin, dass die kommenden Spiele entscheidend für die Saison seien. Die Fans waren ebenfalls begeistert von der Leistung ihres Teams und feierten den Sieg gebührend im Stadion. Dopo la partita, il capitano del Torino ha affermato che la squadra è molto felice per questa vittoria. La gioia per il gol importante di Cocco è grande e rafforzerà ulteriormente la fiducia dei giocatori. Inoltre, ha sottolineato che le prossime partite saranno decisive per la stagione. Anche i tifosi erano entusiasti della prestazione della loro squadra e hanno festeggiato adeguatamente la vittoria nello stadio. Non poteva mancare che i tifosi sostenessero i loro giocatori applaudendo rumorosamente dopo il fischio finale, sottolineando l'atmosfera positiva. D'altro canto, per il Venezia è stata una sconfitta amara, che potrebbe portargli via non solo punti, ma anche la fiducia in se stessi. L'allenatore del Venezia Calcio ha visto dopo la partita la necessità di stabilizzare la difesa e motivare i giocatori per migliorare nelle prossime partite. Ha dichiarato che la squadra ha lavorato duramente, ma non è riuscita a mostrare la necessaria continuità in attacco. Dur questa vittoria, il Torino ora mantiene la testa della classifica in Serie A, mentre il Venezia, con un ulteriore colpo, si stabilisce nella parte bassa della classifica. Le prossime partite saranno decisive per entrambe le squadre nel raggiungere i loro obiettivi. Autore Anita Fache, venerdì 30 agosto 24.